Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, benvenuti su investire.biz e ben ritrovati al consueto aggiornamento di trading con Ichimoku la sessione che andiamo a svolgere il giovedì dalle 16 alle 17, trattiamo forex, indici, materie prime e azioni ovviamente tutto tramite l'utilizzo dell'indicatore Ichimoku e con ovviamente lo studio della price action approfondito allora andiamo subito ad aggiornare il tutto partendo da Audi CAD Audi CAD sono ancora posizionato short da 0,92, lo stop era la chiusura dei prezzi sopra 0,92 e 30 non ha mai chiuso al di sopra di quel livello però voglio aggiornare una cosa lo stop lo porto un po' più in alto perché mi interessa molto il massimo di venerdì 19 luglio quindi stop loss alla chiusura dei prezzi di sopra del livello di 0,92 e 43 quindi questo è sicuramente un aggiornamento importante primo obiettivo i minimi precedenti in area 0,98 poi da lì lasceremo correre la posizione magari portando a casa un po' di profitto però andiamo avanti perché dopo abbiamo Audi NZD qui non sono più in posizione nonostante la mia view short perché avevo spostato lo stop in profitto quindi ora sono flat io al momento attendo magari un ritracciamento un po' più sostenuto per posizionarmi a ribasso un livello interessante potrebbe essere quello di 1,04 e 70 bene proseguiamo sto soffrendo su Euro Audi perché il prezzo è sceso io sono entrato long da 1,6 adesso siamo a 1,59 e 26 lo stop loss alla chiusura dei prezzi sotto 1,59 e 45 ma non ha mai rotto con forza questo livello quindi sono ancora in posizione voglio magari attendere un ulteriore conferma però al momento sono long a mio avviso questa non è una rottura soprattutto perché poi abbiamo delle candele con delle ombre molto pronunciate verso il basso un corpo molto molto piccolo quindi non sono ancora convinto attendo prima di chiudere la posizione long su Euro Audi andiamo però avanti perché dobbiamo parlare ora di un titolo un titolo azionario sto parlando del titolo Mediaset SPA eccoci qui quindi siamo eravamo posizionati da 2,95 quindi abbiamo shortato con successo questo titolo ho chiuso definitivamente le mie posizioni ora non siamo più short inizialmente l'ultimo target era 2,6 poi abbiamo chiuso a 2,66 perché comunque abbiamo fatto un ottimo profitto ora non sono più in posizione come detto attendo degli storni importanti per dei long almeno fino a 2,45 andiamo avanti parliamo di CAD Yen perché siamo in posizione su CAD Yen eccoci qui time frame giornaliero abbiamo studiato questo trend e a mio avviso qui ci possono essere delle ottime occasioni stop loss se il prezzo chiude al di sotto del livello di 81,91 come sempre su time frame giornaliero e ultimo target zona 84,20 come sempre il primo sono i massimi precedenti eccoci qui in area 83 bene andiamo avanti perché dobbiamo vedere GBP AUD GBP AUD non siamo più in posizione abbiamo fatto un bellissimo trade qui abbiamo fatto più o meno 6 figure detto questo però al momento guardate come sta facendo fatica a superare questi 3 target che come sapete se ravvicinati funzionano dal supporto barra resistenza la mia view è ancora ribassista però tendo dei ritracciamenti più interessanti quali sono le zone che più mi interessano su GBP AUD? ecco qui 1,78 e 80 e 1,78 e 50 insomma questa zona di 30 pip di 30 pip andiamo avanti perché parliamo di Euro GBP Euro GBP che continua negli ultimi 3 giorni si sta muovendo veramente poco io attendo un ritorno in area 0,90 e 15 per posizionarmi al ribasso con stop alla chiusura dei prezzi sopra 0,90 e 52 il target poi è da definire lo vedremo lo vedremo giovedì andiamo avanti sto soffrendo sul DAX sono entrato short da 12,365 CFD con stop alla chiusura dei prezzi di sopra di 12,466 quindi se oggi il prezzo chiude sopra qui secondo me lo farà allora chiuderò la mia posizione short quindi qui sì è vero sto soffrendo però insomma l'importante è gestire bene il rischio dopo il DAX dobbiamo andare a vedere Euro Dollar perché io qui avevo un ordine in area 1,1280 che è stato colpito con successo nell'ultima sessione però io avevo parlato di in realtà avevo detto di attendere o comunque che avrei atteso la rottura di questa zona supportiva che ho evidenziato che va da 1,1190 a 1,1210 e quindi adesso valuterei magari dopo un ritracciamento proprio su questa zona che sembra essere rotta quest'oggi uno short io sono invece short già da 1,1280 avevo un ordine non pensavo che il prezzo raggiungesse quei livelli in così poco tempo giovedì scorso invece è accaduto quindi sono stato anche un po' fortunato questa volta però insomma a mio avviso ci saranno delle ottime occasioni soprattutto se la candela di oggi chiude al di sotto di questa zona supportiva perché potrebbe essere confermato un bel nuovo trend e proprio poi sul ritesto si potrebbe andare a sfruttare magari da 1,12 numero tondo 1 short andiamo verso la conclusione e parliamo di gold dove abbiamo un ordine pendente in area 1400 lo mantengo lì stop loss alla chiusura dei prezzi sotto 1,381 chiudiamo il tutto con GBP USD GBP USD avevo dato un ordine invece qui non invece questo non l'ho fatto però avevo detto short da 1,25 quindi da qui con stop alla chiusura dei prezzi sopra 1,25 70 se non sbaglio il prezzo non ha mai raggiunto tali livelli e infatti se siete short probabilmente lo siete ancora perché non ha raggiunto lo stop loss in chiusura quindi bene GBP USD short da 1,25 insomma adesso siamo a 1,24 e 30 attenzione perché a 1,24 magari anche 1,24 e 10 si può portare a casa parte la posizione o comunque spostare lo stop in profitto bene direi che però ci abbiamo concluso tanta carne al fuoco io poi vi aspetto alla sessione di trading con Ichimoku di giovedì dalle ore 16 alle ore 17 ma ricordatevi anche che poi alle ore 18 abbiamo la terza lezione del corso Ichimoku e Price Action dalle 18 alle 20 con questo ho concluso buona giornata buon trading a tutti